Ciao, sono Paolo Valci e vi presento questo Leica Ecovip 6, un campo eccezionale per quattro persone alle dimensioni di 6 metri, avete ben capito? 6 metri e vi faccio vedere quante cose c'entrano e la comodità di queste persone. Prima di tutto andiamo a vedere il doppio fondo. Intanto cliccate, se volete avere tutte le caratteristiche, cliccate sotto il link che troverete tutte le caratteristiche sulla nostra scheda di questo camper. Guardate che enorme contenitore, ci potete mettere qualsiasi cosa, 6 metri. Qua la parte garage, in questo caso quando i due lettini sono così, questo è il grande gavone, il contenitore e nel caso potete alzarlo e quindi diventa un enorme contenitore. Qui sotto le dimensioni, l'altezza minima e massima del garage. Andiamo al suo interno. Guardate che abitabilità ha, come è fatto e come è tenuto. Primo, un grandissimo matrimoniale che si può alzare, però vi consiglio, certo che è più facile andare in cabina, ma pensate la manzarda come bel contenitore. Due finestre, un oblò, tessuto che isola sia da un maggior isolamento, perché è appiccicato al soffitto, ma soprattutto da un migliore isolamento acustico. Guardate com'è bellissimo questo sportello, un bella zona giorno con contenitori, il tavolo che va giù nel caso avete bisogno e il piano com'è grande e spazioso per le quattro persone. Il blocco cucina, un enorme lavandino, quattro fuochi, contenitore, altro grande contenitore, il contenitore con un altro pianetto, come vedete manca un po' il piano d'appoggio, ma la Laika ci ha pensato, quindi guardate la funzionalità. Poi cassettiera, cassettiera, poi altro contenitore. Questo tavolo può diventare matrimoniale in questo modo. Ci si può anche andare in sei, però è comodissimo da quattro. Poi un altro bel contenitore sopra il frigo, che guardate con che potete allargarlo all'occorrenza, quindi questo mobile scorrendo diventa molto più profondo, oppure più stretto. Congelatore, frigorifero, poi un grandissimo armadio, poi la divisione, che divide la parte anteriore dalla parte posteriore. Qua due enormi letti, la possibilità di salire quindi più facilmente sul letto superiore, e poi i pensili, uno, due e tre, e il contenitore laterale. Come vi ho detto, il discorso può essere usato la parte inferiore come garage e quindi in questo modo chiuderla. Il bagno, bel water, oblò, finestra, un bel lavandino, guardate come comodo, e poi per fare la doccia, la parete che gira e diventa una bella doccia. Con precisione 6,25 m, ma è veramente compatto. Camper comodo da quattro, fino a sei persone. Chiamateci, veniterò a vedere, perché è veramente ben fatto, ben tenuto e molto, molto funzionale. Come sempre, agli ottimi prezzi e servizi carabambacci. Ciao!